C'è un uomo che ha scritto pagine a punti di una vita un valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato, uomini e angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faglie e di famiglie spazze come tante figlie sull'isola di sangue che fra tante meraviglie fra livoli e fra conchiglie ma sai a figli e figlia di deciderazione che stendono a guardare la casa, la saluce, la scuola, la macchina, la macchina, la macchina, la macchina, la macchina e ogni canale non fosse ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno con dedizione contro un'istituzione organizzata cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro? è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare le orecchie ascoltano non solo musica, non solo musica la testa si gira che è giusta, la mira ragiona a volte condanna, a volte perdona semplicemente pensa prima di sparare pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare pensa che puoi decidere tu resta un attimo soltanto un attimo di più con la testa fra le mani ci sono stati uomini che sono morti giovani ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole perbole, intatte, reali, come piccoli, miracoli idee di uguaglianza, idee di educazione contro ogni uomo che eserci di oppressione contro ogni suo simile contro chi è più debole contro chi sotterra la coscienza del cemento pensa